O lo scrivo dentro una canzone Non so neanche se l'ascolterai O resterà soltanto un'altra fragile illusione Se le parole fossero una musica Potrei suonare ogni odore E dirti tutto di me Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca Non riesco a dirti neanche come stai Come stai bene con quei pantaloni Come stai bene oggi Come non vorrei cadere in quei discorsi Già sentirti mille volte E rovinare tutto Come vorrei poter parlare senza preoccuparti Senza quella sensazione che non mi fa dire Che mi piaci per davvero Anche se non te l'ho detto Perché squallino trovarci Solo per portarti a letto E non me ne frega niente Se dovrò aspettare ancora Per valerti finalmente Dir di solo le parole Ma dolce più che posso Come il male e come il sesso Finalmente ripresento E così questa notte è già finita E non so ancora dentro come sei Non so neanche se ti rivedrò O resterà soltanto un'altra inutile occasione E domani poi ti rivedo ancora E mi piaci per davvero Anche se non te l'ho detto Perché squallino provarci Solo per portarti a letto E non me ne frega niente Se non è successo ancora Aspetterò un qualche momento Non sarò una volta sola Spero più che posso Che non sia soltanto senso Questa volta non pretendo Preferire stare qui da sola Che con una vita in compagnia E se davvero prenderò il volo Aspetterò la nuova polizia E non so pensare in più davvero Ma forse sei solo un'illusione Però stasera mi rimasto Penso a te E scrivo la donazione Non c'è più che posso Come il male e come il sesso Questa volta non pretendo Perché oggi sono io Oggi sono io Oggi sono io Grazie Bravissima Nicole Veramente si presenta da sola Anche perché lei insomma Ha fatto anche diversi lavori discografici Se non ricordo male Vero? Com'è? Sì allora Qualche mese fa Ho avuto l'opportunità Di vincere una borsa di studio Per andare al chat Del Dammobol E ora a settembre Faremo il saggio finale Quindi deve rivenire E a settembre Sempre lo stesso mese Uscirà il mio primo disco Speriamo bene Brava perché Nicole Ci mette passione Cuore, impegno Veramente Concentrazione Quindi si merita tutto Quello che sta arrivando Perché non è Insomma La professione del cantante E una professione Va fatta veramente seriamente Quindi insomma Qua tutti ci impegniamo E ovviamente c'è chi Si impegna di più E ci crede di più E quindi Ha veramente ottimi risultati Veramente Grazie Bravissima Grazie 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 Grazie